Musica 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 Franci finalmente sei arrivato ma dove eri finita? Ma cosa fai col borsone della palestra che dobbiamo andare a lezione? Ah il borsone da palestra? Eh sì perché dopo vado al CUS Ma che cos'è il CUS? Ma come non sai che cos'è? Dai un'occhiata qui Musica 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 Il QSO offre ottime possibilità ai giovani universitari dandoci la possibilità di allenarci a bassissimo posto. Il QSO per noi è un uomo dove ritrovarci, dove passare il tempo facendo attività fisica, quindi occupando il modo giusto del nostro tempo. Stanno anche con gli amici, divertendoci, parlare, appartenersi, parlando con loro, quindi per migliorare noi stessi. Qui ci sono più e più svariate attività, quindi una persona può trovarsi possibilmente qui e venire con gli amici. Si deve studiare il sistema per stare bene fisicamente e psicologicamente. Alla prossima Quando sono venuta qua la prima volta non sapevo bene cosa fare, però i ragazzi che sono qua sono molto accoglienti, mi hanno spiegato bene i diversi corsi che c'erano, anche perché qua vengono tenuti un sacco di corsi. Alla prossima Sono tutte delle discipline che servono per migliorare sia la capacità cardiovascolare che la propria muscolatura, atte al bell'essere e soprattutto al benessere. Ma diciamo che è un modo semplice. Carino, divertente, per mantenersi in forma e per mantenere anche attiva la nostra vita, il nostro saluto e il nostro benessere. Dai mi è convinto, quasi quasi vengono qui.